Bianchi, scarico su Carpani, quindi ancora l'Ascoli, la conclusione, la rete, Lores Varela, Cesena 0, Ascoli 1 al 38esimo e 35 nel secondo tempo, fa impazzire i 1200 sostenitori biancoleri, una perla di Lores Varela. L'appoggio è per Bianchi che appoggia l'azione, ancora Varela, l'indietro, la conclusione, la palla in rete, Baldini, Ascoli 2, Cesena 0 al 41esimo, Baldini da doppia per Lascoli e porta 2, Lores Varela per il Lappicchio.